Le immagini e la raccolta film contro la privatizzazione dell'acqua, uno degli esempi, una delle iniziative del gruppo di questa grande associazione di Vericata in questa città. Ma non solo, perché voi avete anche realizzato un sito con un blog all'interno nel quale si può interagire con la gente. Parliamo di questa iniziativa. Sì, praticamente abbiamo capito con i ragazzi che in un periodo di grande tecnologia come questo, di siti internet, facebook, youtube, tutte queste iniziative devono essere, secondo noi, incamerate all'interno di un sito. Un sito che non è solo, come spiegava tanta gente, frutto o uno strumento della nostra associazione. Noi stiamo mettendo a disposizione il sito anche ad altre persone. E per Vericata, secondo me, questo sito deve essere un'occasione di rivincita sociale, perché ogni cittadino, appunto perché è proprio un blog, può scrivere, può commentare qualsiasi nostra iniziativa, iniziativa che propone un'altra associazione, qualche notizia che magari anche voi ci passerete per sponsorizzare. Quindi questo scambio, questa interazione con voi, con l'associazione, e quando l'avete aperto, come l'avete pensato, insomma, questo sito? Come è realizzato all'interno? Questo sito, praticamente, all'interno abbraccia tantissimi aspetti, che poi sono tutti gli aspetti che l'associazione ha incamerato al proprio interno. Si parlerà di università, praticamente io sono uno studente universitario, per cui si parlerà di università, abbiamo un senatore che ci scrive gli articoli del senato accademico e ci fa sapere tutte le iniziative che si fanno a Palermo. Abbiamo, e ho chiuso da poco, un accordo con uno studente iscritto al CNSU, che praticamente sarebbe il Comitato Nazionale degli Universitari, che praticamente è a stretto contatto con il Ministro, per cui ci può aggiornare sulle iniziative, sulle manifestazioni, sulle leggi, proprio... Una cosa, intanto ricordiamo il sito. Il sito, andando a www.viverelicata.it, invito proprio i cittadini, anche i giovani, soprattutto i giovani, perché usano internet e tutte queste cose, proprio a scrivere sul sito, proprio un invito che faccio, perché è proprio studiato per tutta la nostra situazione. Noi, di questo modo, tutti andiamo su questo sito, avete la dicitura, i primi saremo noi, insomma, a cliccare e vedere cosa c'è. Grazie, linea alla regia. Grazie.